Musica Enesimo successo per la quarta e penultima serata dell'Italian Movie Award, il Festival del Cinema Internazionale è quasi arrivato al capolinea per quest'anno, eppure ancora tante emozioni e sorprese ci attendono. Luce accese sul palco dell'Anfiteatro della Cartiera Pompei con Luca Bete, che continua a presentare la Kermess con il suo immancabile magnetismo. Con lui Carlo Fumo, direttore e ideatore degli IMA, che premia subito il primo ospite della serata, Giuseppe Cascella, artista a 360 gradi, noto per i suoi capolavori di pittura, che riceve il primo vitruviano della serata. Subito dopo si entra nel vivo con gli ultimi due cortometraggi della Short Social World Competition, con Più di me, di Giordano Toregiani, dove si affrontano i problemi legati all'alimentazione. Poi è il turno del corto Six Cup Chai di Laila Khan, con protagonista un bambino costretto a vendere tè a Mumbai, tra povertà e sfruttamento minorile. Dopo la proiezione degli ultimi due corti in gara, sul palco sale lo sceneggiatore Alessandro Bencivenni, che nella sua lunga carriera ha collaborato con i fumetti di Topolino, Radio, Cinema e TV, confirmando molti successi, dalla serie Don Matteo a vari fantozzi, dai film natalizi di Sky ai cosiddetti Cine Panettone. Bencivenni ha anche tenuto una lezione nella Masterclass 2015 ed è uno dei giurati dei festival. Dopo aver ricevuto da Carlo Fumo il vitruviano d'argento, Bencivenni saluta il pubblico, dando loro appuntamento nelle sale, a Natale, con un nuovo film, ancora top secret. Finalmente arriva il momento tanto atteso dal pubblico, a calcare la passerella del red carpet l'attrice Giulia Michelini. Scortata sul palco dai bodyguard, Giulia ha risposto alle domande di Luca Bete e Carlo Fumo. Anche i ragazzi della Masterclass hanno riempito la Michelini di domande e tanti, tanti complimenti. Verso la fine dell'intervista, un momento emozionante. Una giovane fan, in lacrime, chiede di poter raggiungere il suo idolo. Giulia non ci pensa due volte e la chiama sul palco. Un lungo abbraccio tra le due è incorniciato da un forte applauso. L'attrice, emozionata, riceve poi l'ambito premio del festival, per il film Sei mai stata sulla luna? Anche per lei, l'omaggio musicale della lirica Vilni, accompagnata dalla Cuomo. Al termine dell'esibizione, il pubblico saluta l'attrice, per poi assistere alla proiezione del film. Anzitutto benvenuta qui a Pompei, all'Italian Muya Award. Questa sera riceverai un premio, il Vitroviano d'Argento, per il film Sei mai stata sulla luna. Come è stato girare questo film? Beh, guarda, ci siamo divertiti tanto. E' un cast molto ampio su questo film, con Paolo Genovese, il regista, si lavora benissimo. C'era un'aria molto serena, molto divertente, per cui ne porto un buon ricordo. Ci siamo divertiti molto, sì. Tu sei un idolo per tante persone, soprattutto per chi vuole fare il tuo mestiere. Cosa ti senti di consigliare ai ragazzi che magari vorrebbero intraprendere questa carriera? Queste sono domande difficilissime alle quali rispondere. Mi sento sempre molto inadatta a farlo. In realtà non saprei cosa dire, insomma, fondamentalmente se i sogni, se qualcosa si desidera davvero, credo che combattere fino alla fine per cercare di raggiungere quell'obiettivo sia una cosa fondamentale. Ovviamente serve una preparazione e un minimo di studio, quello sicuramente. Però, insomma, con un po' di grinta, un po' di tenacia ci si può arrivare. Dove ti vedremo prossimamente? Dove potremo ammirarti? Guarda, in realtà siamo ancora, stiamo cercando di capire. Per adesso mi dedicherò un po' a teatro per la fine dell'anno. Farò un debutto a teatro come prima, primissima volta. Insomma, quindi sono abbastanza emozionata. È un'esperienza nuova che mi va molto di fare. Ho voluto fare 6 cup chai perché ho conosciuto molti bambini in India. Ho visto molti bambini nelle strade. Allora, ho voluto fare questo film perché sono stata direttamente lì in India, a Mumbai, e ho potuto constatare di persona la povertà nelle strade di questa città. È un ragazzo che vive e funziona in un slum, come un t-seller. È un ragazzino che vive in una baracopoli e dunque è un venditore di tè. Il suo lavoro è il venditore di tè. Prossimamente ha già in mente un coorto e soprattutto una tematica. Sì, stavo lavorando su un documentario. Sto filmando questo in Giordano, nel Medio Oriente.